Signori e signore, in giro per il mondo con Tari e Trudi vi presentano una paronamica del villaggio. Giardini, no, oriente! Ciao Trudi! Senti, che percorso faremo? Faremo un percorso per... Perché ridi? Perché ridi? Ti sto facendo il sollevito in giro! Ok, dai, non te lo faccio più! Da bene, allora arriveremo alla sala ristorante. Ok, e faremo vedere anche che cosa c'è da mangiare? Ok, andiamo, camminiamoci. Allora, qui ci sono varie stanze, vedete? Il corridoio che ci porta nella sala ristorante. Ci stiamo recando per mangiare l'ultimo pranzo che facciamo qui, poi ritorneremo l'anno prossimo. Ok, andiamo, proseguiamo. Vedete? C'è un lungo corridoio alla nostra stanza. Si trovava lì dietro, dietro di noi. Che stanza, che numero era? Il 224. Non ti ricordi niente, Trudi? Ecco qua, guardate. Ora vi facciamo vedere anche un viale che invece porta al bar della piscina. Camminava, che bevetticello, come si sta bene, guarda, che meraviglia, che meraviglia. Proseguiamo, proseguiamo. Allora, qui abbiamo il viale che porta al bar della piscina. E alla piscina, e poi alla pineta, e tutti gli ammessi e commessi. Andiamo, proseguiamo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Aspetta, interrompiamo un attimo. Poi riprendiamo nel momento in cui entriamo. Esatto, entriamo al ristorante. Ok? A dopo, dopo, dopo. A dopo, 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 dopo.